Sì sì, abbiamo fatto dei passi in avanti oggi, la squadra mi è piaciuta, abbiamo interpretato bene quello che stiamo facendo, abbiamo fatto un buon allenamento, quindi questa è la cosa più importante, continua il percorso di crescita e di avvicinamento alle date dove sono più importanti, oggi mi è piaciuto l'intensità, il modo di stare in campo, iniziamo a fare le cose in una certa maniera, quindi sono contento. Ancora qualche giorno di ritiro e poi domenica altro test con l'Alba Adriatica? Sì, ma questo è un avvicinamento a trovare la condizione migliore, abbiamo ancora dei giocatori fuori, piano piano oggi è rientrato Marcioni, è stato fermo una settimana, è entrato anche Pampano che ha avuto un problemino, quindi siamo qui piano piano e recuperiamo i giocatori, ma la cosa più importante è prendere la condizione fisica, che in questo momento è l'aspetto più importante, oltre al fatto che si inizia a vedere anche le trame di gioco che proviamo in allenamento, quindi questi sono gli aspetti più importanti. Poi c'è ancora tempo, ci saranno ancora dei carichi di lavoro, quindi saranno altri test da avvicinamento al campionato dove noi dobbiamo migliorare e cercare di trovare anche l'affiatamento con il compagno, perché siamo una squadra con molti giocatori nuovi e quindi dobbiamo anche trovare l'affiatamento col compagno.